Questa è una TM125 che ha il motore proprio, è a dire il motore TM. La TM è una fabbrica italiana di Pesaro, che distacca il deposito di alluminio, spettacolare, è abbastanza modernita perché ha un freno di disco davanti e dietro un tambore. Il tambore, o meglio dire, il buce, lo costruivano in fabbrica. È molto difficile trovare una fattoria di motore che producono i bucci anche. Detrò c'è un monomotivatore e si notano che c'è il sistema di palancasi, di basculanti di alluminio. È un monomotivatore progressivo. È una pena che non la puoi tograbare perfettamente perché è in buona compagnia. Una Suzuki, che è una TM125, una Valenti 125. Questa tiene la sua storia perché il numero uno non è pura casualità, sino perché è la prima TM125 che costruirò il mismo Enzo Valenti. Una Suzuki 125, una SUVM Creo 125 e una Priglia 250. Questa la vediamo in un'altra occasione perché non possiamo trasferire tutto perché qui c'è una motogurra, non si può riuscire. E come se non fosse abbastanza, tiene insertato l'antirrobo, così che non la possiamo tampocco toccare.